Per ritrovati, oggi presentiamo la nuova app di Marina la Barberia. Quante volte hai provato a tagliarti i capelli in casa da sola e con pessimi risultati? E quanto è noioso e antiquato telefonare al barbiere per prendere l'appuntamento? Amici di Loma Shopping, abbiamo la soluzione che fa per voi. Scaricate ora l'app di Marina la Barberia. Scegli il servizio che vuoi, l'ora, il giorno, la settimana, il periodo storico che preferisci, il Cretaceo, il Medioevo, il Pleistocene Superiore. Sì, Alessandro, ma parliamo di risparmi. Quanto ci costa questa? Pensate, è già scontata nel 60% più un 30% solo per oggi. Ma attenzione, signore e signori, un ulteriore sconto del 20% per i primi 10.000 download. E non è finita qui. In omaggio anche il pratico carica smartphone Ecocharger Power 2000 con tecnologia innovativa per rimanere sempre connessi, in forma e pettinati. Cosa stai aspettando? Scarica subito l'app di Marina la Barberia. Adesso, subito, non tagliare la barbetta. Marino, ti aspetta.